L'Under 17 del Napoli torna alla vittoria dopo quattro gare, due pareggi in casa e due sconfitte in trasferta. In una partita caratterizzata dal vento gelido è il Cosenza a cadere al Kennedy. Il Napoli inizia attaccando soprattutto sulla fascia sinistra, al terzo cross di D'Agostino, conclusione di Cavallo che termina alta sopra la traversa. Al settimo il Napoli rischia tantissimo, Mangialardi serve Gagliardi che supera con un pallonetto maione ma deve fare i conti con lo straordinario salvataggio sulla linea di Parisi. Al ventottesimo Cioffi prova a tirar fuori il suo repertorio su punizione ma sul suo tentativo Ciodo si distende e devia il pallone in corner. Il gol arriva al trentaduesimo, costruiscono Virgilio e Cioffi, finalizza il centravanti Montaperto con una conclusione letale, raso terra che beffa il portiere del Cosenza. Montaperto va in fiducia e un minuto dopo cerca di entrare di forza in area di rigore, vince un rimpallo, poi Ponte fa buona guardia sull'inserimento di Cavallo. Al quarantaquattresimo una punizione di Mangialardi dalla destra diventa insidiosa anche grazie al vento. Gagliardi anticipa tutti ma la sua deviazione termina a lato. Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo e nella ripresa inizia subito forte. Al quarantasettesimo calcio di punizione di Cioffi dalla destra, stacca Montaperto e il pallone termina a lato. Al cinquantatresimo sugli sviluppi di un corner dalla sinistra si innesca un batti e ribatti nell'area piccola, il pallone termina tra le braccia di Crocco dopo una deviazione di Montaperto. Al cinquantacinquesimo arriva il raddoppio azzurro. Lo inventa Cioffi che supera Crocco con un gran tiro alla distanza. Sul 2-0 il Napoli gestisce la partita senza particolari patemi. Al novantunesimo è Costanzo a realizzare un intervento importante in area di rigore sventando l'attacco del Cosenza. L'under 17 del Napoli consolida così il secondo posto alle spalle della Roma che vale l'accesso diretto ai quarti di finale dei playoff saltando così il turno degli ottavi. Sono 12 i punti di vantaggio su Benevento e Ascoli che hanno però una partita in meno. Gli azzurrini continueranno la loro corsa domenica prossima sul campo del Frosinone.